E' incominciata la vendemmia dell'uva bianca e stiamo raccogliendo l'oltrezza per portare la cantina di Vico Barone, la cantina sociale e la dobbiamo consegnare per domani mattina. Comunque è una vendemmia molto pregiata, ci sono molti gradi e per la cantina va molto bene che verrà fuori un vino eccellente. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore che è qua qua. A far l'amore con la mia bella A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. A far l'amore con la mia bella, a far l'amore con la mia bella. Grazie a tutti.